Il temporizzatore TMM1 NFC può essere utilizzato per il conteggio delle ore di funzionamento di un macchinario o per segnalare la richiesta di manutenzione dopo un quantitativo definito di ore. Premi parametri e poi M01 generale. Seleziona ora la funzione N conta ore, qui. Ricordati che le impostazioni T1 e T2 non sono attive con la funzione conta ore. Entra ora nel menu relativo M04. Per prima cosa, imposta il numero di ore. Qui. Preset conta ore. 100 ad esempio. Premi invia e poi avvicina lo smartphone al dispositivo per inviare la configurazione. Ecco fatto. Ora il conteggio delle ore è partito e il timer ne aggiornerà il progresso ogni 10 minuti senza perdere la memoria nemmeno in assenza di alimentazione. Passate alcune ore puoi controllare il conteggio avvicinando di nuovo lo smartphone al dispositivo. In questo modo. Quando il conteggio sarà terminato, il TMM1 NFC chiuderà l'uscita e lo segnalerà dal led rosso sino al reset. Per effettuare il reset ti basta chiudere l'ingresso con un pulsante ad esempio. Se hai la necessità di anticipare una manutenzione, puoi modificare in corsa il parametro conteggio conta ore. Inserisci, così, la cifra desiderata per anticipare il raggiungimento del limite. Premi invia e avvicina come sempre lo smartphone per inviare il dato. Ecco fatto. Ora il contaore ha raggiunto il limite con l'anticipo desiderato.